Aia! Estruzione in punto! No! Ho ho ho! Mazzano! Metto comparte! E subì qua! Comando! No! Fermati! Ok! Oh! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Fai un cavallo! Aia! Che cazzo! È tirato concessionario! È il puro! Ehi! Siamo quasi arrivati! Ehi! Siamo quasi arrivati! È il mio cavallo che ha in commercio! A.B.S. Settificare le serie! Hidroguida! Trasponder! Vettore, mi potrei, ecco fuel, ecco diesel, ecco bus. E' un spegnimento del sistema. E' un spegnimento del sistema.